Questo ciclo di lezioni fa parte della serie di Sprint MOOC Modellazione Architettonica, elementi propedeutici alla modellistica digitale e fisica, promossa dalla Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni, AWIC, del Politecnico di Milano. Come iniziare un percorso didattico propedeutico alla modellazione architettonica? Abbiamo deciso di cominciare con una panoramica sul corredo strumentale normalmente impiegato nella professione e nei corsi di studi in architettura per la modellazione digitale. Il percorso didattico si articola in due WIC. Obiettivo della prima WIC, che potremmo definire di inquadramento, è prendere confidenza con l'ambiente di lavoro e le risorse necessarie per poter ben operare, incluse le risorse software messe gratuitamente a disposizione dal Politecnico di Milano per i suoi studenti e docenti. Parleremo anche di hardware e interfacce, dei principali dispositivi di input e output e del computer in quanto fulcro di questo sistema. Obiettivo della seconda WIC, che potremmo definire di approfondimento, è fornire criteri e indicazioni utili per orientarsi nella scelta del computer in funzione delle prestazioni richieste dalla grafica 3D e per installare software in ambiente Windows e in ambiente Mac OS. Nel MOOC si fa anche riferimento alle opportunità offerte dalla rete per il collegamento di dispositivi e postazioni, un contesto operativo che travalica i confini fisici dei tradizionali ambienti di lavoro. Al termine del percorso didattico, i partecipanti saranno in grado di scegliere e gestire consapevolmente i propri dispositivi hardware e di installare il software. Buon lavoro! Al termine del percorso didattico, i partecipanti saranno in grado di scegliere e gestire Grazie! Grazie! Grazie!